problemi con l'avvocato donzelli no anzi estremamente cordiale in molti avrebbero da ridire sui suoi modi con me è sempre molto gentile e non è l'unico se fa riferimento a ludovica sappia che la fanciulla non è per niente obiettiva glielo concedo al contrario però dei signori inglesi che abbiamo avuto come ospiti ieri sera mi pare che si siano complimentati per il servizio gli anglosassoni a fine serata non riconoscono più nemmeno le proprie mogli figuriamoci la qualità di un direttore di sala tuttavia sono dimostrato l'altezza almeno questo me lo concedano per prima cosa non si permetta mai più di interrompermi mi scusi in ogni caso era quello che aveva intenzione di dirle e io ne sono felice se sono qui è grazie a lei e voglio dimostrarle che ha scommesso sul cavallo vincente i cavalli possono imbizzerrire se non sono condotti da una mano salda e lei sarà la mia guardi non le conviene sono abituata a usare lo scudiscio una carezza in confronto a quello che ha vissuto setta io lo so che il mio passato il mio rango non sono all'altezza di ludovica ma ci tengo veramente a dimostrarle quanto valgo e non solo professionalmente e perché dovrebbe sprecare il suo tempo perché ludovica le vuole bene e tiene molto in considerazione il suo giudizio mio caro l'amore può tutto ma fino a un certo punto ed è lì che subentro io se mi permette secondo me lei è molto diversa da quello che appare non ha l'argenteria di lucidare buona giornata contessa